ciao buongiorno sono giancarlo mancino è un saluto agli amici di mixer planet e siamo qui da celeste 7 a milano ospite per presentarvi un cocktail nuovo usiamo il nostro nuovo mancino copi il grande yellow chartreuse l'abbiamo chiamato goya il nome di mio cane come si fa come si fa il goya partiamo con il con 10 ml di chartreuse giallo andiamo un po carichi con copi mancino 50 ml lo lasciamo raffreddare un attimo poi il grande bellino fresco lo andiamo a mettere nel bicchiere in fondo così le bollicine rimangono fresche poi cosa si fa si mettiamo ghiaccio chiediamo una piccola statina che sistemiamo sistemiamo il ghiaccio allo stesso tempo andiamo a raffreddare il chartreuse con il vermouth si va di nuovo a riprendere andiamo giù con in questo caso qui a fianco al ghiaccio per non farlo annacquare troppo ecco qui in questo caso qui non c'è bisogno nemmeno di 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 miscelarlo perché così non spariscono le bolle e andiamo a finire di nuovo col bellino guarnizione una meringa che con caffè va benissimo salute a goya grazie a tutti